La nera artistica, Sonny Bono, l'ultima discesa, di Andrea Simone. Doveva essere una vacanza per Sonny Bono quella dei primi giorni del 1998 sulle nevi del lago Tajo, al confine tra California e Nevada. Una vacanza sugli sci, prima di tornare al suo lavoro di membro del congresso e deputato tra le fila del partito repubblicano, ai giochi di potere e agli intrighi di Washington. Qualche giorno per rilassarsi e dedicarsi a una delle sue grandi passioni, lo ship. A Washington, però, Sonny Bono non avrebbe più fatto ritorno perché il 5 gennaio 1998, a soli 62 anni, rimase ucciso andando a sbattere violentemente contro un albero proprio durante una discesa sugli sci. Il corpo del cantante, presentatore, produttore discografico e politico viene trovato due ore dopo il lancio dell'allarme per la sua scomparsa. Tutto fa pensare a un incidente, perché le tracce degli sci sulla neve finiscono proprio contro una serie di alberi al margine della pista. C'è però una circostanza inquietante. Il 31 dicembre 1997 muore, sui campi da sci di Aspen, in circostanze simili, Michael Kennedy, figlio di Robert e nipote di John Fitzgerald. L'uomo svolgeva prevalentemente attività di filantropia, ma nel 1994 aveva dato una mano a suo zio Ted nell'organizzazione della campagna elettorale per la rielezione di Ted Kennedy al Senato contro Mitt Romney. Viste le dinamiche estremamente somiglianti dei due incidenti e la vicinanza delle date, cominciarono a girare voci su un complotto organizzato, per assassinare o intimidire, politici statunitensi. Nel 1994, Sonny Bono è il primo firmatario di un disegno di legge sull'estensione dei termini di scadenza del diritto d'autore. Data la sua prematura scomparsa, non riuscirà mai a vedere il proprio sogno trasformarsi in realtà, ma la sua vedova, Mary Whittaker, viene eletta in Parlamento fino alla scadenza del mandato del marito e poco tempo dopo la morte di Sonny Bono, il congresso approva il Copyright Term Extension Act, conosciuto ancora oggi con il nome di legge Sonny Bono sull'estensione del diritto d'autore o più brevemente, sempre in onore del cantante, come Sonny Bono Act. La morte del politico scatena un'ondata di commozione e scalpore nel paese. Il funerale si svolge in pieno stile americano, con il feretro avvolto nella bandiera a stelle strisce. Cher torna apposta da Londra e legge l'orazione funebre. Undici anni di matrimonio con l'uomo con cui ha formato uno storico duo artistico non si dimenticano facilmente e durante le esequie la cantante esegue uno dei loro grandi successi, The Beat Goes On. In seguito gli dedicherà il famoso album Believe. L'allora presidente americano Bill Clinton definisce Sonny Bono una voce nuova a Washington e una figura pubblica di grande dedizione. Lo speaker della Camera, Newt Gingrich, annuncia un giorno di lutto nel partito repubblicano e dice che tutto il gruppo ha perso un amico carissimo. Bono viene poi sepolto al Desert Memorial Park di Cathedral City, in California. Salvatore Philip Bono Salvatore Philip Bono nasce il 16 febbraio 1935 da genitori di origine siciliana in quella Detroit che diventerà la capitale dell'auto e in seguito della musica con la nascita del colosso discografico Motown. Fin da ragazzino dimostra di avere una spiccata propensione per l'arte dei suoni tanto che a soli 16 anni compone il suo primo brano. In seguito viene ingaggiato dall'etichetta Specialty Records dove si distingue come autore di canzoni per Sam Cooke e Larry Williams. Nel 1954 ha luogo il primo dei suoi quattro matrimoni, quello con Donna Rankin che nel 1958 gli darà una figlia, Christine, detta Christie. Negli anni 60 lavora come musicista e talent scout per la Philz Records, la casa discografica del produttore Phil Spector e incide anche brani come solista che avranno una certa fortuna. Risale però al 1964 l'incontro che gli cambierà la vita, quello con la cantante Cherilyn Sarkisian Lapierre, in arte Cher, che all'epoca ha solo 18 anni. La conosce durante una sessione di registrazione ed è amore a prima vista, tanto che lo stesso anno i due si sposano e fanno coppia fissa anche nell'ambiente musicale, regalando al mondo successi come I Got You Baby, Bang Bang e The Beat Goes On, tutti scritti, arrangiati e prodotti dallo stesso bono e che fruttano a Cher critiche molto favorevoli. Insieme presentano anche sulla rete televisiva CBS dal 1971 al 1977 un varietà molto amato dal pubblico statunitense, The Sonny and Cher Comedy Howard. I due furoreggiano anche in Italia, tanto che nel 1967 partecipano alla tragica edizione del Festival di Sanremo, funestata dal suicidio di Luigi Tenco. Insieme a Caterina Caselli cantano Il cammino di ogni speranza, mentre Cher esegue con Nico Fidenco, ma senza sonni, una ballata nostalgica, ma piano per non svegliarti. Un brano che però la giuria non apprezza. Il duo Sonny e Cher, detta inoltre legge e fa proseliti anche in fatto di moda e stile, saranno in molti a portare i baffoni spioventi e il caschetto di Sonny, a imitare la pettinatura dai capelli lisci, corvini e con la riga nel mezzo di Cher, a indossare come loro pantaloni a zampa d'elefante a vita bassa, giacche hippie e camicie a fiori. Dall'unione tra i due nascerà nel 1969 la figlia Chastity Sun, che negli anni 90 dichiarerà pubblicamente la propria omosessualità e che nel 2010 cambierà sesso e nome scegliendo di chiamarsi Chaz Salvatore. Ovviamente il secondo nome è un omaggio al padre. Negli anni 70 la carriera musicale e cinematografica di Cher tocca vette sempre più alte, mentre quella di Sonny Bono sembra subire un rallentamento, per non dire una battuta d'arresto. Non sappiamo con certezza se sia stata questa discrepanza a far scoppiare la coppia. Fatto sta che i due divorziano nel 1975. In seguito Sonny Bono si risposerà altre due volte. Nel 1982 con Susi Coelho, da cui divorzia nel 1984, e nel 1986 con Mary Whittaker, sua ultima consorte, che gli dà due figli, Cesarelland nel 1988 e Cianna Mary nel 1991. A Roma si dice che quando si chiude una porta si spalanca un portone. Per Sonny Bono la porta è stata la musica e il portone la politica. Desiderando aprire un ristorante a Palm Springs, dopo averne già avviato uno a Los Angeles, il cantante si trova però a dover affrontare la complicata burocrazia locale, che gli mette i bastoni tra le ruote in diversi modi. Quasi per dispetto, dunque, Bono sceglie di candidarsi alle elezioni comunali, una scelta che si rivela vincente. Grazie alla sua popolarità viene eletto sindaco nel 1988. Durante il suo mandato lavora intensamente per snellire le procedure burocratiche di fare affari in città e promuove il Festival Internazionale del Cinema di Palm Springs, che ancora oggi porta il suo nome. La politica gli piace, Sonni ci prende gusto, a tal punto che nel 1992 decide di scendere in campo a livello nazionale. Si candida così al congresso per il partito repubblicano, ma le cose non vanno come spera. Viene infatti sconfitto da Barbara Boxer. Bono però non si arrende. Nel 1994 ci riprova e questa volta ce la fa. Lo eleggono deputato per il 44esimo collegio elettorale della California. Oltre alla legge sull'estensione del diritto autore, Sonni Bono si prende a cuore anche le tematiche ambientali e promuove una campagna per la tutela del lago Salton. Si dimostra inoltre uno strenuo oppositore del terrorismo ed è tra i primi parlamentari americani a far parte della task force sull'eversione e le armi non convenzionali. Dieci anni dopo la sua morte nel 2008 Ted Gunderson, un ex agente dell'FBI fa una rivelazione shock. Sonni Bono sarebbe stato assassinato. Il killer a cui però Gunderson non dà un nome né un volto lo avrebbe ucciso per poi fuggire abbandonando il corpo vicino a un albero. L'arma del delitto sarebbe un oggetto non meglio precisato e l'incidente sugli sci il frutto di una simulazione. La tesi risultato di indagini condotte dallo stesso Gunderson è da far rimanere tutti senza fiato. Come minimo alimenta una serie di domande chi è il fantomatico omicida? Qual è il movente? A dare qualche risposta ci pensa un investigatore che in passato ha lavorato nella CIA. Si chiama Bob Fletcher dichiara di aver conosciuto personalmente Bono e di avergli consegnato documenti bomba su traffici d'armi in America Centrale agenti segreti e uomini ombra. Fletcher aggiunge che Bono era rimasto particolarmente colpito da questi dossier al punto di dirgli che se ne sarebbe occupato alla ripresa dei lavori parlamentari. L'investigatore sostiene che potrebbero essere stati proprio quei documenti a firmare la sua condanna a morte dato che Sonny Bono è rimasto ucciso dieci giorni dopo il loro incontro. Qualcuno lo avrebbe dunque tolto di mezzo perché non ficcasse il naso in affari illeciti che non lo riguardavano e che avrebbero portato alla luce collegamenti e colpevolezze fino a quel momento al di sopra di ogni sospetto. Fletcher parla poi di un secondo movente legato alla sanguinosa strage di Hueco del 1993 quando la polizia assediò un ranch in Texas sede della setta religiosa dei Davidiani. Un'operazione durata 51 giorni dal 28 febbraio al 19 aprile che costò la vita a 76 persone tra cui 20 bambini a due donne incinte e al capo della setta David Koresh. Sonny Bono voleva indagare in modo approfondito sul modus operandi degli agenti federali e sulla correttezza dei loro metodi. Secondo l'investigatore le sue intenzioni non erano viste di buon occhio da apparati occulti che avrebbero voluto toglierlo di mezzo. A sostegno della sua tesi Bob Fletcher ha portato alcuni elementi ignorati a suo tempo dagli investigatori riguardanti l'autopsia e altri dettagli sugli oggetti personali le tracce ematiche e il ritrovamento del cadavere. Le fratture al cranio e le ferite di Sonny Bono non erano compatibili solo con lo scontro con l'albero. Gli occhiali da sci furono trovati in perfetto stato quando invece un incidente simile avrebbe dovuto mandarli in frantumi. Infine la tuta di Sonny Bono era sporca di sangue in corrispondenza delle spalle ma in quel punto il cadavere non presentava ferite. Quelle macchie ematiche sostiene Fletcher potevano essere di qualcun altro di un killer che lo avrebbe seguito sulle piste da sci per tendergli un agguato colpendolo a morte con un corpo contundente forse il calcio di una pistola e che sarebbe rimasto ferito durante l'aggressione. Un'esecuzione in piena regola sulle montagne del lago Tajo in uno scenario suggestivo incontaminato e spettacolare. Dietrologi e amanti dei misteri hanno sempre preso con distacco le teorie di Ganderson e Fletcher. L'opinione pubblica in generale le ha addirittura classificate come fantasie prive di fondamento. negli anni però i due sono sempre rimasti fedeli e coerenti con le proprie idee non hanno mai ceduto di un millimetro né ritrattato le loro dichiarazioni hanno inoltre cercato di convincere la famiglia soprattutto Cher che quello di Sonny Bono non è stato affatto un incidente e che l'intera storia della sua morte deve essere completamente riscritta. Grazie.